Oltre 200 partecipanti, tra diverse generazioni, professioni variegate, emozioni altalenanti. L'annuale ritrovo del Cairoli, orchestrato dall'abile regia di Oreste Premoli, mette allo stesso tavolo liceali di oggi, di ieri e dell'altro ieri, come il signor Dario, 94 anni, giunto in auto da Saronno per non perdersi la festa. Ho incominciato il ginnasio con l'esame da missione nel 1936, 35-36, e l'ho terminato nel 1943. È vero che lei è venuto qui in macchina stasera? Guida ancora? Guido regolarmente, è una delle cose che meraviglia tutti, forse anche me. Anche quest'anno la serata ha celebrato chi si è distinto per merito e chi negli anni ha saputo dare lustro a un liceo prestigioso, motivo di vanto per la comunità locale e più in generale fucina di talenti e motore umanistico che sommato al congenito pragmatismo varesino scatena la tempesta perfetta. Come conferma Alfredo Ambrosetti, artefice di due borse di studio, l'una dedicata all'amata moglie Lella, che Alfredo definisce la più grande fortuna della sua vita, l'altra a papà Antonio. Mi ha aiutato molto liceo classico, perché fare le traduzioni di greco, in greco e dal greco, in latino, è stata la ginnastica più importante. Tant'è vero che io ho consigliato subito i due figli, uno stava entrando adesso, di fare del bichio classico e l'hanno fatto. Beneficiari delle borse Ambrosetti, Simone Marcolli e Francesca Bernini, mentre un altro prezioso e meritato assegno ha ricordato Ombretta Michetti, medico di alte qualità umane e professionali, prematuramente scomparsa. La consegna affidata a mamma Maria Rosa ha premiato un exequo, Chiara Spertini e Filippo Federici. Quarta borsa di studio, intitolata alla compianta docente Silvia Moroni, istituita dal marito Marco, alla brava Caterina Corti, attualmente all'estero, per motivi di studio. Dopodiché, spazio al grande protagonista della serata, Giuseppe Speriano, chirurgo e scienziato di fama internazionale. Va a lui il cairolino 2019, riconoscimento che riporta alla memoria del professore, alla dimensione magica, e ormai lontana, della quotidianità liceale. È chiaro che in quegli anni lì la vita non ha ancora cominciato a presentare i conti, in realtà si dovrebbe studiare, ma poi uno cerca anche le amicizie, la libertà della famiglia, le vacanze con gli amici, il periodo del motorino, della moto, della macchina, delle feste, delle prime cotte, e quindi è il periodo migliore della vita. Poi quando si è anziani si ricordano i periodi molto più vecchi, ma proprio per questo motivo perché sono i più belli. Targa di ringraziamento ai coniugi Costanza Vedani e Aldo Fantoni per l'attenzione e la sensibilità con cui da sempre seguono le iniziative legate alla scuola e alla sua associazione. Commovente fuori programma poi, in omaggio alla mitica Dora De Bastiani, per lunghi anni punto di riferimento dei servizi generali dell'istituto, oggi pensionata ma ancora attiva al fianco dell'associazione cairolina. Una perla, come l'hanno definita Premoli, e l'attuale dirigente Salvatore Consolo. In chiusura, momento teatrale affidato al colto e appariscente Silvio Raffo insieme all'attrice Silvia Bottini e distribuzione del calendario 2020 del Cairoli, dedicato alla poesia e nobilitato da una finalità solidale. La festa è finita, gli amici si salutano, ma la tradizione prosegue attraverso anni, voci, volti, lungo un sentiero di arricchimento culturale che nelle sue radici classiche trova la quintessenza della modernità.